Sarà una provocazione, una strategia. Sta di fatto che il Presidente della provincia regionale di Grigento oggi ha consumato un altro passaggio verso il licenziamento dei precari in servizio nell'ente. Ha incontrato le organizzazioni sindacali di categoria per annunciare la sua decisione, mandare a casa i lavoratori per protestare contro la mancata d'eroga al patto di stabilità da parte del Governo nazionale che di fatto impedisce alla sua amministrazione di regolarizzare e normalizzare il rapporto di lavoro con i 109 ex LSU, oggi in attività soltanto con 18 ore settimanali. Un dossi deciso pronto per l'ennesima iniziativa plateale per provare a fare breccia nelle cronache nazionali e nella politica romana, una sorta di stoccata a tutto campo destinata anche ai sindacati. I sindacati debbono fare fino in fondo il proprio lavoro. Non mi pare che i sindacati abbiano contribuito a risolvergli i problemi. Risolviamoli i problemi e affrontiamoli senza bisticciare, senza litigare, ma mettendoci insieme e facendo sentire il nostro importante peso alle autorità compotenti che sono quelli che seguono sulle portone e sugli scarni romani. Sui volti dei precari presente una delegazione, stupore e delusione, spiazzati anche i sindacati. Siamo stupiti nell'apprendere la comunicazione del Presidente perché ha un senso, una provocazione nella misura in cui questa è mirata a ottenere un risultato. Io dico al Presidente, quel risultato può ottenere dal punto di vista legislativo da un Parlamento sciolto nei fatti, sono tutti in campagna elettorale, da un governo dimessosi, sono tutti in campagna elettorale. Questa provocazione avrebbe avuto senso farla 12 mesi fa. Una provocazione forte avrebbe senso se ci sono le dimissioni sul tavolo, non il licenziamento. Ci meraviglia questa provocazione perché noi non siamo abituati a operare in questo modo, noi siamo abituati a pianificare e programmare e concertare con le norme vigenti il cosiddetto piano di fuoruscita. Quindi questo un po' tra virgolette ci spiazza. E la vicenda precaria continua ad essere teatro di scontro istituzionale tra Eugenio Dorsi e Dino Buscemi, Presidente del Consiglio Provinciale. Il numero uno di Aula Giglia ha criticato la decisione del capo dell'amministrazione, bollando la come superficiale. Parla di tradimento del consenso popolare ricevuto nelle ultime elezioni e accusa Dorsi di alterare la serenità dei lavoratori e delle loro famiglie con proclami inopportuni. Pronta la replica del Presidente della provincia. Si ostina a fare demagogia e a strumentalizzare le persone come se fossero soltanto contenitori elettorali e non si preoccupa assolutamente di intervenire. Ahimè peraltro lui molto favorevole come strada e come percorso riferentosi agli amici che ha a Roma per risolvere il problema dei precari.